Ehi, signori! Volete giocare con noi? Dai, giochiamo. Giochiamo insieme. Sakharov! Sono loro! Sono loro! Ci hanno riconosciuti. Hanno davvero un ottimo fiuto, sorellina. Davvero? Sai, dobbiamo fare più attenzione, fratellino. Non ci possiamo fare molto. Che si fa adesso, sorellina? Non c'è molta scelta. Chiamiamo gli angioletti per loro. Il paradiso deve essere un bellissimo posto. Vero, fratellino? Ma no, non posso lasciarti scappare. Sorellina, quello portiamocelo a casa. Giocheremo con lui fino al prossimo lavoro. Che bella idea, fratellino. Che è piaciuta? Ne ero sicuro. Merda! È pesante, sorellina. Dammi una mano. Sei tu il maschietto, no? Noi femminucce non possiamo affaticarsi troppo. Hanno buttato l'esatore in una macchina parcheggiata lì vicino e poi hanno sparato nel bar finché non c'era più niente di vivo. Noi. Noi.